ciao da lucia come avete visto dalla presentazione oggi finalmente dopo tantissimo tempo e tantissime richieste sono arrivata a farvi la mia maglia bianca eccola qua ve la ricorderete me l'avete veramente chiesta tantissimo quella aperta da un lato e quindi adesso vi faccio vedere come si fa ma prima come è una parte che io dimentico sempre vi do tutte le informazioni su misure e quant'altro allora misuriamo prima quella che è già fatta quindi il modello principale che è quella che avete visto e che tanto vi è piaciuta allora io per realizzare questa maglia come l'altra solo che ho usato due filati diversi quindi una risulta leggermente più piccola allora per questa maglia anzi ho avviato 120 catenelle il punto è un multiplo di 3 ora andiamo a misurare la larghezza del collo è di 24 la altezza però questa varia perché dipende ecco la altezza è di 8 il puntino del collo quindi la parte laterale è di 8 lo sprone è alto ve lo dico subito fino all'attaccatura della manica 20 centimetri quindi comunque si rimane sempre attorno ai 18 20 e tutto lo sprone quindi la parte diciamo questa usata fatta con questo punto è alta 18 centimetri 18 centimetri cioè 2 4 6 8 10 12 14 15 giri 15 giri 17 con i due di avvio dopodiché ho continuato con l'altro punto e vi dico quanto è la maglia totale in larghezza quindi tutta la maglia è di 45 centimetri e è lunga in totale 54 centimetri quindi vi ho dato la misura di questa bianca poi io in questa bianco aggiunto qualche giro di manichina ma proprio sono un sei giri di manichina proprio una cosina piccola mentre questa vi dico anche tutto allora questa invece che è fatta con questo filato vedete questo filato è il pure cotton print che trovate sempre da italia artisan e ne sto usando non è ancora finita questa mani ne userò complessivamente un 250 grammi anche questa è fatta con 250 grammi di filato questa risulta leggermente più piccola ma forse è un centimetro meno solo perché non è ancora stata lavata questa quasi è diciamo col lavaggio lasciato andare ma inizialmente era le stesse misure per questa quindi risulta proprio un centimetro meno infatti questa poi di 20 centimetri sempre 100 parto sempre con 120 catenelle infatti l'altezza del punto è uguale infatti 18 centimetri è semplicemente diventata un po più larga lavandola quindi le misure sono le stesse medesime voi potete vi faccio vedere questa più scura perché così si vede meglio decidere di fare l'apertura su un lato centrale questa vedete all'apertura che leggermente più laterale questa ho fatto l'apertura decentrata ma un po più spostata verso il centro ma questi sono è a questo vostro io vi faccio vedere come si procede e ovviamente lavoreremo un campione questo filato l'ho lavorato con un uncinetto del 3 e mezzo mentre adesso andrò a fare un campione lavorato col 4 e un filato proprio per fare il campione quindi penso di avervi dato tutte le informazioni ecco vi do l'informazione più importante se volete variare la larghezza aspettate che arrivo la larghezza dell'apertura quindi dell'apertura per far passare la testa dovete aumentare aumentare di 3 su ogni lato quindi 369 almeno 12 catenelle calcolandone 3 per lato quindi così potete ingrandire o diminuire la grandezza tipo volete farlo per una ragazzina per una bambina dalla misura che vi do io di 120 dovrete togliere sempre 12 quindi 12 in più o in meno per questo tipo di scollatura se la volete fare a scollo quadrato ovviamente andrete a calcolare tenendo conto del multiplo di 3 sempre quanto come regolarvi con le misure comunque il multiplo è di 3 per il punto e quindi dovete calcolare 3 per lato e quindi 12 totali per ingrandire la taglia come ogni top down dovete semplicemente fare più giri e quindi decidere di scendere un pochino di più nient'altro perché per aumentare le taglie sui top down sono i giri che cambiano il punto è lo stesso se vi passa la testa anche l'apertura del collo è la stessa quindi l'importante sono i giri io ripeto ho fatto un tot di giri per la mia taglia ma non è detto che non vadano bene anche per voi o se vi serve più grande basta fare qualche giro in più quindi detto questo passiamo direttamente alla realizzazione della maglia allora facciamo le nostre catenelle ora io quando mi riferirò alle misure mi riferirò sempre alle misure del lavoro non quelle del campione perché a voi di quanto faccio il campione non interessa quindi facciamo che queste siano le mie 120 catenelle ovviamente sono meno perché è solo un campioncino quindi a 120 catenelle chiudiamo in cerchio in questo modo con una maglia bassissima dopodiché facciamo una catenella e andremo a fare una maglia bassa in ogni catenella sottostante per tutte le nostre 120 catenelle fate le nostre 120 maglie basse iniziamo il lavoro vero e proprio quindi ci alziamo con tre catenelle che sarà la nostra prima maglia alta scusatemi non ve l'ho detto prima ci dobbiamo dobbiamo chiudere sulla prima maglia bassa quindi nella catenella della prima maglia bassa dobbiamo andare a chiudere in cerchio ecco qua ho dato per scontato e non devo farlo quindi ci alziamo con tre catenelle che sarà la nostra prima maglia alta dopodiché andiamo a fare nel vostro caso quindi non sul campione ma misura reale dovete andare a fare 39 maglie alte 4 5 6 fino a 39 arrivati a 39 alla 30 30 novesima maglia alta la lavoriamo facciamo due catenelle ed entriamo subito nella maglia nella maglia sottostante seguente ricominciamo a contare questa volta fino a 21 quindi il nostro lato lungo sarà di 39 maglie alte posizioneremo l'angolo segnandolo con due catenelle dopodiché avremo il lato corto che sarà di 21 posizioneremo altre due catenelle conteremo di nuovo senza saltare nessuna maglia 39 maglie alte e di nuovo 21 per arrivare all'inizio del lavoro quindi adesso faccio le mie 21 e ci ritroviamo a posizionare l'altro angolo quindi lavorata la nostra 21esima maglia 2 catenelle e andiamo immediatamente nella maglia successiva sottostante con la prima delle nostre 39 maglie alte successive quindi fatta la 39esima sempre due catenelle senza saltare nessuna maglia andiamo concludendo con le ultime 21 maglie alte fatta la 21esima maglia alta carichiamo il filo ed incontriamo una due sulla terza catenella di inizio proprio qui entriamo e facciamo una maglia alta in modo da rimanere sempre al centro dell'angolo quindi continuiamo in questo modo tre catenelle che sostituiranno la nostra prima maglia alta carichiamo il filo andiamo a fare una seconda maglia alta sempre all'interno dell'angolo quindi abbiamo fatto il nostro primo metà angolo ora andiamo a fare due catenelle carichiamo saltiamo una due sulla terza maglia alta facciamo una maglia alta 2 catenelle di nuovo saltiamo due maglie alte sottostanti e sulla terza facciamo la maglia alta di nuovo 2 catenelle saltiamo due maglie alte sottostanti sulla terza maglia alta e così via fino al nostro prossimo angolo quindi in questo modo ecco qui 1 2 entriamo direttamente nell'angolo con due maglie alte 2 catenelle quindi stiamo andando a fare di nuovo l'angolo e 2 maglie alte in questo modo dopo di che due catenelle saltiamo 1 2 nella terza andiamo a fare la maglia alta 2 catenelle sulla terza maglia alta 2 catenelle sulla terza scusate mi sono spostata maglia alta quindi andiamo avanti così fino alla fine del giro dove vi farò vedere appunto come andiamo a chiudere il giro arrivati all'ultimo angolo quello che abbiamo lavorato per metà entriamo proprio nel foro dell'angolo andiamo a fare le nostre due ultime maglie alte e per rimanere sempre all'interno dell'angolo carichiamo sulla terza catenella d'inizio andiamo a fare una maglia alta quindi non facciamo le due catenelle ma le sostituiamo con la maglia alta vedete in questo modo noi rimaniamo sempre al centro del nostro angolo continuiamo in questo modo quindi andiamo sempre a fare 3 catenelle e un'altra maglia alta all'interno dell'angolo appena costruito quindi vedete facciamo un altro angolo dopodiché carichiamo e adesso iniziamo il nostro disegno vero e proprio quindi dobbiamo andare a lavorare su ogni maglia alta fatta nel giro precedente però per partire noi ci ritroviamo praticamente con gli aumenti del giro precedente quindi queste due maglie alte noi andiamo sulla seconda delle due maglie alte del giro precedente quindi quelle che abbiamo usato per l'angolo andiamo a fare 3 maglie alte su questa maglia alta sottostante quindi tutte nella stessa maglia alta in questo modo tutte nella stessa dopo di che andiamo a fare una maglia bassa sulla prossima maglia alta che incontriamo due catenelle e sulla stessa maglia alta andiamo a fare altre due maglie alte quindi in questo modo abbiamo maglia bassa due catenelle e due maglie alte sulla prossima maglia alta andiamo ancora una maglia bassa due catenelle e altre due maglie alte sulla stessa maglia sottostante vedete stiamo andando a fare degli dei ventagli ventaglietti diciamo in obiliquo piccolini quindi su tutte le maglie alte sottostanti andremo a fare lo stesso punto quindi maglia bassa due catenelle nella stessa maglia alta sottostante due maglie alte tutto sulla stessa maglia così aspettate maglia bassa su tutte le maglie alte sottostanti quindi passiamo sopra agli archetti da due catenelle e lavoriamo solo sulle maglie alte quindi maglia bassa due catenelle e sempre sulla stessa maglia e in questo modo di nuovo maglia bassa due catenelle per alzarci e di nuovo due maglie alte sulla stessa maglia in questo modo spero di non essere uscita dall'inquadratura ora sono arrivata vedete mi rimangono solo le due maglie alte prima dell'angolo cosa facciamo andiamo con una maglia bassa sulla prima che incontriamo quindi la prima delle due entriamo facciamo una maglia bassa due catenelle e di nuovo due maglie alte quindi lavoriamo come lavorato fino adesso carichiamo il filo ed entriamo nell'angolo lavorandolo normalmente quindi due maglie maglie alte 2 catenelle 2 catenelle 2 maglie alte carichiamo e andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte sulla seconda quindi sull'ultima delle due maglie dell'angolo precedente quindi queste due sono quelle che abbiamo fatto nell'angolo sottostante quindi entriamo sulla seconda quella più vicina alle due catenelle e facciamo 3 maglie alte quindi in entrata e in uscita dall'angolo avremo sempre nella maglia più esterna dell'angolo sottostante le 3 maglie alte dopodiché ricominciamo esattamente come fatto sul sul lato precedente quindi entriamo sulla maglia alta con una maglia bassa 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte sopra alla maglia alta sottostante di nuovo maglia bassa sulla maglia alta sottostante 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte siamo arrivati qua vedete siamo nel prossimo angolo abbiamo le due maglie alte praticamente questo gruppo di maglie non facciamo altro che sdraiarlo sull'archetto sottostante in questo modo proprio entrando con la maglia bassa 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte siamo arrivati qua vedete siamo nel prossimo angolo abbiamo le due maglie alte precedenti all'archetto nell'angolo quindi entriamo con una maglia bassa sulla prima che incontriamo 2 catenelle e andiamo a fare altre due maglie alte dopodiché entriamo nell'angolo sempre normalmente l'angolo lo facciamo con 2 maglie alte in questo modo 2 catenelle e 2 maglie alte quindi l'angolo sarà fatto sempre nello stesso modo 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte così dopodiché usciamo dall'angolo e andiamo nelle prime due vedete abbiamo le due maglie alte fatte nell'angolo sottostante non sulla prima sulla seconda facciamo scusate una maglia alta 2 maglie alte e 3 maglie alte quindi facciamo sempre prima e dopo l'angolo 3 maglie alte normalissime senza fare maglia bassa 2 catenelle e 2 maglie alte entriamo e usciamo sempre nello stesso modo dall'angolo dopodiché maglia bassa sulla prossima maglia alta sottostante ricominciamo come fatto finora quindi maglia bassa 2 catenelle 2 maglie alte così fino a fine giro eccoci arrivati in fondo al giro quindi adesso io sto andando a fare aspettate ve lo faccio vedere perché così vi faccio vedere per l'ultima volta l'angolo di questo giro entro con una maglia bassa nella prima delle due maglie alte precedenti all'angolo sottostante due catenelle di nuovo due maglie alte sempre su questa maglia sottostante entro con due maglie alte nella metà angolo non ancora costruita quindi in questo modo dopodiché carico e faccio una maglia alta sulla terza catenella d'inizio giro ecco qua vedete rimaniamo sempre nell'angolo questo è quello che avremo a fine giro allora non guardate che è un po stortino perché purtroppo questo filato tira un pochino però vedete che si inizia a vedere il lavoro ora si procede in questo modo allora noi ripeteremo sempre questi due giri quindi il giro di maglia alta catenella maglia alta e il giro di ventaglietti sdraiati sulle catenelle però vi faccio rivedere come fare il giro di maglia alta catenelle maglia alta perché ora non abbiamo più una serie di maglie alte sottostanti quindi andiamo a fare 1 2 3 catenelle quindi il nostro angolo normalmente verrà sempre calcolato nello stesso modo 2 2 2 facciamo 2 catenelle e siccome qui non ne abbiamo non abbiamo un modulo sdraiato perché vedete abbiamo fatto le tre maglie alte consecutive in uscita dall'angolo andiamo tra la prima e la seconda del modulo da tre con una maglia alta in questo modo dopodiché facciamo due catenelle e andiamo a fare tutte le altre maglie alte qui nell'archetto creato sulla maglia bassa vi ricordate abbiamo fatto maglia bassa 2 catenelle 2 maglie alte andiamo proprio tra la maglia bassa e le due catenelle e le due maglie alte quindi qui nell'archettino che si crea lo spazietto che si crea tra la maglia bassa e le due maglie alte quindi due catenelle carichiamo ed entriamo proprio qui in mezzo tra le maglie vedete si forma proprio la separazione tra la maglia alta e le due catenelle e le due maglie quindi noi faremo così per tutto il giro vedete entriamo sempre in questo forellino che si è creato tra le maglie due catenelle di nuovo qui voilà due catenelle di nuovo qui ecco qua due catenelle di nuovo qui ed arrivate nell'angolo facciamo due catenelle non siamo ancora nell'angolo noi abbiamo sempre le quindi tre maglie alte precedenti all'angolo vedete in questo modo allora cosa facciamo facciamo sulla prima delle due maglie alte dell'angolo sottostante andiamo a fare la nostra maglia alta scusate continuo a fare la maglia bassa invece della maglia alta in questo modo facciamo due catenelle e facciamo normalmente il nostro angolo quindi entriamo nell'archetto dell'angolo facciamo due maglie alte due catenelle e due maglie alte in questo modo facciamo due catenelle ed andiamo a fare sempre vedete abbiamo le due maglie alte dell'angolo sottostante in questo caso abbiamo anche vicino le tre maglie alte già fatte in uscita quindi facciamo così ve conto proprio le maglie una due entriamo tra la terza la quarta e la quinta nel mezzo quindi sempre con una maglia alta non so perché mi ostino a entrarci con una maglia bassa e facciamo la maglia alta quindi di nuovo due catenelle ed entriamo sempre nel foro tra la maglia bassa e le due maglie alte con una maglia alta due catenelle maglia alta sempre tra la maglia bassa e le due alte due catenelle entriamo tra la maglia bassa e le due alte vi faccio rivedere l'angolo perché capito l'angolo avete capito tutta la lavorazione quindi ecco qua due catenelle di nuovo vedete abbiamo le maglie dell'angolo precedente vedete siamo entrati tra le tre maglie dell'angolo precedente quindi abbiamo fatto aspettate perché non mi sto spiegando molto bene quindi adesso ve lo rispiego in modo più comprensibile quindi abbiamo lavorato nell'ultimo modulo qui avevamo fatto le tre maglie alte che precedevano l'angolo quindi noi cosa facciamo? entriamo tra la prima e le altre due del modulo precedente all'angolo quindi come prima entriamo ne abbiamo una, due, tre poi abbiamo quattro e cinque maglie entriamo tra la prima e la seconda di queste cinque maglie sempre con una maglia alta in questo modo vedete dopodiché facciamo due catenelle ed entriamo nell'angolo in questo modo con due maglie alte due catenelle e due maglie alte così vedete praticamente ne saltiamo sempre tre dopodiché due catenelle saltiamo una, due, tre quindi dopo la terza tra la terza ci inseriamo proprio in mezzo alle maglie una, due, tre tra la terza e la quarta proprio qua in mezzo tra le maglie andiamo a fare la nostra maglia alta di nuovo due catenelle quindi qua adesso andiamo avanti normalmente tra la maglia bassa e le due maglie alte due catenelle di nuovo tra la maglia bassa e le due maglie alte due catenelle entriamo tra la maglia bassa vedete proprio qui e le due maglie alte sempre con una maglia alta non so per quale motivo mi ostino a continuare a fare la maglia bassa comunque in questo modo quindi andiamo a replicare semplicemente la maglia il giro questo giro qua vedete siamo proprio sopra ne abbiamo così una sotto e una sopra e in mezzo ci sono questi ventaglietti sdraiati di nuovo maglia alta tra la maglia bassa e le due alte di nuovo adesso vi faccio rivedere l'angolo perché veramente è la cosa è semplice ma si fa un po' fatica ecco no guardate ve l'ho già fatto praticamente vedete io sono entrata proprio qui quindi ho fatto l'ultimo dopodiché abbiamo le tre maglie e qua era ancora la maglia ecco qua tra la maglia bassa e le due alte ho fatto la maglia alta dopodiché due catenelle ed entriamo direttamente nell'angolo in questo modo due scusate qua devo aver fatto qualche ah sì ok perdonatemi spero di non farvi troppa confusione comunque dobbiamo entrare nell'angolo con due maglie alte due catenelle e due maglie alte ecco qua dopodiché due catenelle contiamo una due tre maglie alte subito dopo ci inseriamo in mezzo tra la maglia la terza maglia alta che abbiamo appena contato e la quarta quindi qua in mezzo con una maglia alta ecco qua vedete ne abbiamo due la terza tra la terza e la quarta ci inseriamo proprio nel mezzo con una maglia alta e quindi ricominciamo due catenelle quindi nel forellino tra la maglia bassa e le maglie alte due catenelle maglia alta sempre lì due catenelle maglia alta sempre lì in questo modo è sempre lo stesso metodo vedete adesso siamo entrati in questo entriamo direttamente nell'angolo una due maglie alte carichiamo e nella terza catenella di inizio qui facciamo la nostra maglia alta così da ritrovarci di nuovo nell'angolo vedete adesso questo sarriccia perché è veramente questo filato tira un pochino ma questo sarà il nostro lavoro vedete eccolo qua procederete adesso con di nuovo questo giro quindi andremo a lavorare sempre sulle maglie alte i nostri ventaglietti sdraiati in questo modo ora vi faccio vedere come si chiude per lo scalfo manica come vedete io ho fatto un altro giro perché voi dovrete sempre chiudere sul giro quindi quando arriverete all'altezza per chiudere lo scalfo manica dovrete ritrovarvi col giro di ventaglietti io qua vi faccio vedere per l'appunto ho fatto 15 giri vedete sono arrivata a chiudere proprio sul giro con i ventaglietti quindi qui perché chiuderemo poi con maglia alta 2 catenelle maglia alta piegheremo a metà il nostro lavoro per chiudere lo scalfo manica quindi io qua ho fatto 15 giri voi ovviamente come vi dico sempre sui top down provateli spesso quando riuscite appoggiandoli sulla spalla ecco infilate la testa appoggiate sulla spalla quando riuscite a unire sotto l'ascella il davanti col dietro senza lasciare spazio proprio sotto l'ascella perché poi andremo a fare comunque ancora un giro davanti e un giro sul retro quindi si allungherà un attimino il lavoro quindi quando riuscite a chiuderlo sotto l'ascella dove non tira però non è troppo distante dall'ascella quindi deve essere proprio attaccato allora a quel punto potete unire per lo scalfo manica in questo modo quindi vi dovrete ritrovare col giro di ventaglietti e chiuderemo proprio in questo modo adesso chiudiamo insieme il nostro campione ve lo faccio in questo modo vi faccio vedere lo scalfo manica quindi andiamo a fare 3 catenelle ma non faremo una seconda maglia alta per l'angolo perché noi l'angolo abbiamo finito non lo facciamo più facciamo altre 2 catenelle quindi in totale 5 carichiamo ed andiamo vedete sempre nella seconda dell'angolo sottostante con una maglia alta ecco qua 2 catenelle e quindi andiamo sempre vedete in mezzo al modulo sottostante 2 catenelle di nuovo entriamo tra maglia bassa e catenella quindi quello fatto normalmente il giro di maglia alta catenelle maglia alta che abbiamo fatto fino ad ora quindi andiamo a lavorarlo normalmente in questo modo 2 catenelle maglia alta non stoppo la registrazione perché il mio campioncino è talmente piccolo che arrivo subito al dunque quindi vedete in questo modo di nuovo 2 catenelle maglia alta 2 catenelle maglia alta 2 catenelle maglia alta sono arrivata all'angolo 2 catenelle entro nell'angolo faccio la mia maglia alta faccio 2 catenelle prendo quindi l'altro angolo e ci entro con una maglia alta vedete in questo modo abbiamo praticamente chiuso la manica di nuovo 2 catenelle siccome eravamo vedete nell'angolo entriamo appunto tra saltiamo quindi 1 2 3 tra la terza e la quarta entriamo con la maglia alta 2 catenelle maglia alta sempre come fatto fino ad ora 2 catenelle maglia alta 2 catenelle maglia alta vedete a parte l'angolo che ha qualche variazione il lavoro è sempre lo stesso quindi i giri sono sempre tutti uguali è l'angolo che magari può destabilizzare un attimo ma vi assicuro che una volta capito il concetto dell'angolo è una cosa semplicissima quindi di nuovo maglia alta 2 catenelle maglia alta 2 catenelle siamo arrivati all'angolo maglia alta ovviamente una sola 2 catenelle 2 catenelle e chiudiamo prendiamo il prossimo angolo e centriamo con la maglia alta anzi no aspettate siamo arrivate vero allora abbiamo fatto le 2 catenelle semplicemente ci andiamo a chiudere nella terza catenella ad inizio una 2 e 3 in questo modo perché ovviamente noi la maglia alta l'abbiamo già fatta in quest'angolo vedete quindi adesso siamo qui ecco qua abbiamo chiuso sia di qui ci troveremo 2 catenelle qui sotto l'ascella e ci troveremo 2 catenelle sotto questa ascella ecco qua ora non dobbiamo fare altro che senza fare angoli ma ve lo faccio vedere andare a fare ancora un po' di giri come lavorato fino ad ora vedete io in questo caso dopo la chiusura dello scalfo manica ho fatto quindi questo giro che è quello che abbiamo appena fatto ma io lo conterò come 1 2 3 4 5 6 7 io ho fatto ancora 9 giri per andare a fare come ultimo ultima sequenza di questo punto quello maglia alta catenella maglia alta perché poi cambieremo punto quindi vedete ho fatto ancora un po' di giri per andare a coprire tutto il seno con lo stesso punto quindi adesso ve lo faccio vedere lavorato in tondo senza angoli eccoci qua dove abbiamo appena chiuso facciamo una catenella rientriamo nello stesso punto e facciamo la maglia bassa 2 catenelle e nello stesso punto ovviamente andiamo a fare le nostre 2 maglie alte quindi ricominciamo la sequenza come è fatta fino ad ora di nuovo maglia bassa sulla prossima maglia alta 2 catenelle le 2 maglie alte quindi facciamo così semplicemente per tutto il giro perché noi non abbiamo più angoli fatto anche l'ultimo ventaglietto ovviamente andiamo a chiuderci nello stesso punto quindi sulla prima maglia bassa prima delle catenelle quindi qui proprio sotto ora entriamo con una maglia bassissima all'interno dell'archetto tra la maglia bassa e le 2 maglie alte facciamo 3 catenelle che è la prima maglia alta 2 catenelle che saranno le 2 catenelle che sostituiscono il primo archetto da 2 e andiamo semplicemente a lavorare come è lavorato fino adesso il giro maglia alta catenelle maglia alta vedete andiamo a rifarlo tranquillamente sopra a questo giro ora noi non avendo più angoli vedrete che non abbiamo più alcuna difficoltà a parte che ripeto se dopo aver fatto due o tre angoli si prende dimestichezza anche con quelli però vedete così è molto più veloce il lavoro perché non abbiamo angoli ora questo per l'appunto questi giri li andiamo a fare fino a sotto il seno per ognuna di voi ovviamente saranno giri diversi io vi ho detto che ne ho fatti mi sembra una decina 10-11 giri ecco qua ora vi faccio vedere già direttamente come andremo a cambiare il punto subito finito questo giro vi faccio vedere come cambiamo il punto perché veramente è semplicissimo questa maglia è fatta di soli due punti che hanno due giri per punto quindi niente di più semplice veramente sembra tanto elaborata ma è una maglia semplicissima da fare poi io questa seconda sfumata che sto facendo la lascerò senza la manichina perché la voglio più a canotta mentre quella bianca avete visto gli ho fatto la manichina ma anche lì per fare la manichina non dovete fare altro che proseguire il punto qua dove c'è la manica quindi vi riattaccate con maglia alta catenella maglia alta e ricostruite diciamo la manichina quindi è molto semplice anche lì non richiede fatica alcuna e neanche calcoli particolari dovete semplicemente riattaccarvi al lavoro già esistente quindi facilissimo sto andando un po' veloce perché non volevo stoppare la registrazione in quanto eccomi sono arrivata quindi vedete ho fatto le due catenelle vado nella terza d'inizio un due tre ecco qua e mi unisco con una maglia bassissima eccomi quindi ho finito facciamo caso che questo sia il lavoro fino a sotto il seno perché questo è un campioncino ovviamente quindi non non andremo avanti a completarlo quindi il punto cambia in questo modo allora andiamo a fare tre catenelle una due tre andiamo a fare altre due maglie alti all'interno dell'archetto quindi una e due per un totale di tre una catenella di separazione andiamo a fare altre tre maglie alte due tre quindi ci ritroveremo con un ventaglietto con una catenella al centro saltiamo l'archetto successivo carichiamo in quello dopo andiamo a fare tre maglie alte una catenella e tre maglie alte una scusate il filo tira due e tre sempre nello stesso archetto saltiamo l'archetto successivo carichiamo in quello dopo andiamo a fare ancora tre maglie alte una catenella e di nuovo tre maglie alte sempre nello stesso archetto due e tre di nuovo carichiamo saltiamo l'archetto un archetto entriamo in quello dopo di nuovo tre maglie alte una catenella tre maglie alte tutte nello stesso archetto ecco qua questo fino alla fine del giro quindi arrivati anche all'ultimo modo lo vedete siamo giusti giusti saltando un archetto entriamo nella terza catenella d'inizio con una maglia bassissima e abbiamo concluso questo giro il giro seguente sarà in questo modo allora siamo qui camminiamo fino alla catenella al centro del modulo in questo modo vedete c'è la catenella tra le tre maglie alte e le altre tre maglie alte andiamo a fare una due tre quattro cinque catenelle due catenelle che saranno di separazione poi carichiamo due volte il filo sull'uncinetto entriamo di nuovo nello stesso archetto di una catenella usciamo ne facciamo cadere due altre due altre due di nuovo una catenella carichiamo due volte e andiamo al centro del prossimo ventaglietto quindi nell'archetto da una catenella ne facciamo cadere due ne facciamo cadere due ne facciamo cadere due due catenelle carichiamo di nuovo due volte il filo di nuovo nello stesso archetto due 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 quindi abbiamo fatto del punti V con la doppia maglia alta una catenella sempre tra un modulo e l'altro carichiamo due volte il filo e di nuovo uno due tre due catenelle di nuovo due volte il filo sull'uncinetto nello stesso punto andiamo a fare uno due tre quindi un altro punto V con la doppia maglia alta di nuovo catenella sempre ricordatevi la catenella tra un modulo e l'altro scusate dobbiamo caricare due volte quindi uno due tre due catenelle di nuovo carichiamo due volte il filo e di nuovo uno due tre una catenella di nuovo due volte il filo entriamo di nuovo nell'archetto da una catenella in mezzo al ventaglietto e andiamo a fare un'altra doppia maglia alta due catenelle di nuovo carichiamo due volte di nuovo nella stessa nello stesso punto andiamo a fare un altro punto V e così per tutto il giro quindi una catenella di separazione di nuovo carichiamo due volte uno due tre due catenelle di separazione carichiamo due volte di nuovo nello stesso punto uno due e tre così questo fino alla fine del giro quindi fatto l'ultimo punto V conto una due tre quattro nella quinta catenella quindi calcoliamo che ne devono rimanere due di separazione e vado a fare la nostra maglia bassissima dopodiché vado semplicemente a rifare questo ventaglietto quindi in questo modo tre catenelle di nuovo rientro e faccio la seconda maglia alta e la terza maglia alta perché la prima è sostituita dalle tre catenelle una catenella di separazione e di nuovo tre maglie alte alte o scusate sono uscita dall'inquadratura scusate vedete andiamo a rifare semplicemente il ventaglietto che era stato fatto sotto e quindi andiamo a fare a lavorare tutti i nostri ventaglietti all'interno dei punti V quindi saltiamo nel prossimo punto V senza in questo giro non ci sono catenelle tra un modulo e l'altro quindi facciamo una maglia alta la seconda maglia alta la terza maglia alta una catenella di separazione e di nuovo tre maglie alte quindi una due e tre faccio vedere un'altra volta quindi carichiamo il filo entriamo nel prossimo punto V e facciamo una maglia alta la seconda maglia alta la terza maglia alta la catenella di separazione e di nuovo una due e tre maglie alte quindi lavoriamo questo giro sempre così arrivati quindi nel punto vedete chiudiamo sulla terza catenella d'inizio il nostro giro cosa facciamo facciamo una catenella di sicurezza io ora ho dimenticato il tagliafili quindi stacco il filo strappandolo e poi lo andrò a nascondere vedete arrivati a questo punto anche sull'originale ho fatto solo tre giri di questo punto perché ora decidiamo dove vogliamo che la maglia si apra questa sarà una bellissima magliettina per le bambole nelle mie bambine perché è venuta veramente una micro magliettina che secondo me potrebbe andare bene anche a un neonato se gli passasse la testa decidiamo dove fare la nostra apertura quindi io la terrei essendo questa molto piccola la terrei ecco qua in realtà voi vedete dove la volete posizionare quindi potete anche farla al centro se vi piace al centro perché comunque una vi risulterà comunque nel centro potete farla al centro oppure potete decidere come me di farla lateralmente in questo caso ecco io terrei l'inizio da qua quindi non facciamo altro che decidere dove partire con lo spacchetto e partire proprio da lì infilo ecco faccio il mio bel cappietto sull'uncinetto quindi se vogliamo che lo spacco sia qui quindi qua si apra la nostra maglia partiamo da questo lato ma mi raccomando siccome ora andremo non più a lavorare in tondo ma lavoreremo con giri di andata e di ritorno quindi uno al dritto e uno al rovescio il primo giro lo facciamo dal rovescio perché perché così avremo sempre il ventaglietto sul dritto quindi giriamo dal rovescio voi segnatevi con il marca punti dove volete che sia lo spacco quindi se io voglio che qua si apra la maglia entro nell'archetto da una catenella da questo lato in questo modo vado a fare scusate eh ho fatto anche ballare la telecamera ecco qua scatturo il filo vado a fare la mia maglia bassissima dopodiché faccio una due tre quattro cinque catenelle più le due di separazione per il nostro punto B carico due volte entro nello stesso punto e con scusate sì carico due volte entro nello stesso punto con con il nostro punto B creato con la doppia maglia alta una catenella di separazione vado nel prossimo ventaglietto sì sempre carichiamo due volte e quindi esco una volta esco due esco tre due catenelle di nuovo carico due volte nello stesso punto ecco qui fino alla fine del giro vedete fatto l'ultimo punto B quindi non lo uniamo all'altro punto B iniziato sull'altro lato semplicemente voltiamo il lavoro vedete per quello vi ho fatto partire con i punti B dal rovescio perché adesso i nostri ventaglietti saranno sempre sul dritto quindi facciamo le tre catenelle e ricominciamo a fare i nostri ventaglietti quindi la seconda maglia alta la terza maglia alta la catenella di separazione e di nuovo le tre maglie alte vedete come abbiamo fatto fino ad ora quindi saltiamo nel prossimo punto B con una due tre maglie alte una catenella di separazione e altre tre maglie alte due e tre in questo modo per tutto il giro quando arrivate a lavorare l'ultimo modulo vedete io ho già fatto le tre maglie alte e la catenella sto andando a fare le altre maglie alte ne faccio solo due dopodiché la terza la vado a fare nella una due tre quattro nella quinta catenella di inizio del giro precedente vedete in questo modo così da fermarla e darle una posizione all'interno della v perché sennò diciamo che scorrendo rimane brutta dopodiché una catenella voltiamo il lavoro camminiamo con maglie bassissime vedete sulle due maglie all'interno del nostro ventaglietto quindi sul archetto da una catenella e ricominciate a lavorare fino alla lunghezza desiderata perché vedete la vostra maglia è praticamente formata questa è l'apertura vedete è praticamente formata dovete soltanto arrivare alla lunghezza che volete io qua nell'angolino sulla mia maglia in quella bianca vi ho fatto una rosa vi lascio su nella i nell'angolino vi lascio il link per la rosa perché la mia bianca aveva la rosa bianca messa qui mentre io qua su questa per non farla proprio identica infatti non faccio neanche la manica metterò un oh mamma ho tirato un filo ah no meno male ragazze pensavo di aver tirato il filo era invece il filo che avevo smesso dal giro precedente io qua applicherò un'applicazione metterò un'applicazione in legno perché mi piaceva visto il colore che fosse avesse una diciamo un'area più etnica ecco visto che ha tutti i colori così della sabbia della terra volevo che avesse proprio un'impronta un po' più etnica quindi metterò in questo punto un un'applicazione in legno che avevo staccato da un bracciale mi piaceva l'ho vista e mi è venuta appunto l'idea di poterla applicare diciamo in questo punto dove si apre la manica ora vi faccio vedere velocemente come continuare la manica perché io questa la lascerò senza la manica ma quella bianca ha effettivamente un po' di manichina io questa la lascerò a canotta perché appunto voglio averne due diverse quindi una a canotta una a manichina e se voi volete che la fate con un filato un po' più pesante potete tranquillamente farla a manica lunga senza diminuzioni né niente proprio così la manica dritta vi faccio vedere come ci si aggancia per fare la manica quindi per continuare dalla manica vi ricordate che avevamo fatto le due catenelle qui sotto proprio sotto al sotto la scella quindi che cosa facciamo facciamo in questo modo ci agganciamo al centro proprio dove abbiamo l'unione anzi facciamolo da questo lato che si vede meglio eccolo qua vedete abbiamo questi due modulini che sono uno che guarda da questo lato e uno di qui proprio al centro di questi due modulini noi ci inseriamo con l'uncinetto ecco qua aspettate che ho la codina con una maglia bassissima facciamo semplicemente tre catenelle due di separazione quindi ecco qua ed andiamo a lavorare vediamo se sto già andando nella direzione giusta perché sì perfetto nella direzione giusta allora il primo lo agganciamo nell'angolo che ci troviamo qua quindi la prima maglia alta l'agganciamo qui sempre le due catenelle perché noi siamo nel giro delle due catenelle quindi la seconda maglia alta l'agganciamo tra la prima e la seconda di questo modulo da tre come abbiamo fatto sempre vicino agli angoli dopo di che andiamo a lavorare semplicemente nel nostro archetto tra la maglia bassa e le due maglie alte e procediamo così vedete due catenelle fino a arrivare a fine giro scusatemi ma ho la video camera messa in una posizione bruttissima oggi e continua a uscire dall'inquadratura quindi andiamo a fare semplicemente ciò due catenelle la maglia alta nuovo maglia alta due catenelle maglia alta due catenelle vedete siamo arrivati qua andiamo di nuovo contiamo una due e siamo nell'angolo sotto qua c'è proprio un angolo ci inseriamo era quello che avevamo unito prima due catenelle ed andiamo ad unirci sulla terza catenella d'inizio in questo modo con una maglia bassissima dopodiché ricominciamo tranquillamente il nostro punto a ventaglietti diagonali allora ecco qua il progetto è finito io non l'ho rifinito in nessun modo perché è bellissima così vedete vi faccio vedere ecco in tutta la sua interezza quella bianca la nuova che sto facendo ovviamente non è ancora finita ma voi avete necessità di avere il video perché vi interessava farla velocemente di conseguenza l'altra la dovrò terminare quindi faccio uscire il video prima che sia terminata la maglia nuova ovviamente poi aggiornerò le immagini di copertina con anche la mia nuova creatura per ora vi faccio vedere questa ve la faccio rivedere intera vedete con lo spacco io ho tolto la rosa perché si era rovinata e volevo mettere un altro grosso bottone al posto della rosa vi lascio comunque sempre nel link vi lascio sempre il link in alto per poter fare la rosa se voi invece volete applicarla vi faccio vedere anche l'altra anche se non è terminata vedete questa è la nuova nata ve la faccio vedere ovviamente vedete è da terminare io dico la verità potrebbe essere usata visto che si portano molto anche a magliettina corta vedete io adesso ve la voglio fare vedere proprio sono arrivata qui e poi intendevo mettere qui una bella applicazione di legno perché la trovo veramente molto graziosa vi ricordo per il filato potete contattare la pagina di Italia Artisan mettetevi anche in contatto se vi è comodo con Francesca Italia Artisan sul suo profilo facebook la potete contattare in privato tranquillamente molto gentile vi darà tutte le indicazioni su filati e spedizioni e quant'altro io vi mando un grosso bacio e vi invito sempre a venire a trovarmi nel gruppo facebook creando con Luci Franci un grosso bacio ciao ciao da Luci alla prossima ciao